Il mondo dell'advertising sta vivendo una vera e propria rivoluzione, spinta da due fenomeni a livello globale. Il fenomeno dell'automazione, per cui domande e offerte vengono connesse attraverso piattaforme, quindi il processo di compravendita viene automatizzato, è già successo sul digitale ma sta succedendo anche sull'offline, e i dati, perché nel momento in cui c'è una connessione, allora noi possiamo utilizzare i dati, non soltanto per analisi o business intelligence, ma per migliorare l'efficacia dell'advertising. È l'era del data-driven marketing e advertising. Oggi un dollaro su tre a livello mondiale sul digitale è gestito con processi automatici e dati e questo succederà in tempi molto brevi anche sull'offline. Nessuna azienda, a prescindere dal settore, oggi può permettersi di ignorare il valore fondamentale dei dati nelle proprie azioni di marketing e advertising.